La cultura dell'olio è una delle culture più importanti che noi abbiamo in Italia e non si può prescindere. Al ristorante bisogna parlarne, trovare ciascuno magari il proprio modo anche in relazione a chi si è, a che cosa si può proporre, però puntare sempre un po' in alto. Su questa idea. Noi abbiamo fatto delle scelte anni fa che stiamo seguendo, per cui facciamo una selezione di oli per l'utilizzo in cucina, però l'olio è un ingrediente a pari grado, pari livello, ha un costo, ha un valore, ha una differenza, ha un'identità, un territorio che esprime un territorio, quindi che si racconta attraverso l'olio. Bisogna conoscere tutti questi aspetti. Il cliente assorbe queste novità, queste informazioni, è in grado anche di distinguerle? Il messaggio che si dà è fondamentale perché il cliente possa recepirlo, però è importante anche puntare un po' più in alto, perché stare solo nell'ambito di quello che il cliente può chiedere, conosce, non consente di fare alcun passaggio. Invece è importante poter raccontarlo e vediamo che i nostri clienti sono sempre molto disponibili. La riprova è che molti stranieri finiscono per portare via una bottiglia di olio. Grazie. 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 Grazie.